L'INAIL comunica che i familiari dei medici e di tutti i professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori sociosanitari vittime del Covid, hanno tempo fino al prossimo 4 marzo per presentare la domanda e ricevere il contributo economico una tantum. Sul portale dell'INAIL è attivo l'apposito servizio online, come previsto dall'accordo di collaborazione sottoscritto il 29 dicembre fra il Dipartimento per le politiche della famiglia delle presidenze del Consiglio dei Ministri e l'INAIL e le domande dovranno essere presentate sul sito dell'istituto attraverso il servizio online speciale elargizione familiari vittime Covid-19 e dovranno riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto come con causa del contagio da Covid, contratto nel periodo di emergenza compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. La domanda può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario o da uno dei familiari munito di apposita delega o da un soggetto terzo in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. All'istanza dovrà essere allegato il titolo professionale del lavoratore deceduto, il contratto di lavoro e la documentazione sanitaria comprovante l'insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come con causa del contagio da Covid avvenuto nel periodo emergenziale.